Buon Camino! Buon Camino, buon Camino. Il regno è finito. Fernandes. È un grande, grande, grande... Oh, no, non lo so. Quando erano due anni, aveva tre anni più di contratto, aveva parlato con amici, aveva chiaro che voleva essere l'entrador. Il gioco di base. Abbiamo parlato di base, che i base hanno un conoscimento del gioco molto ampio, più di altri giocatori. L'opportunità che gli hanno dato è tutto quello che ha detto.